Francesca Merini, una delle promotrici di questa raccolta fondi, di questo progetto di solidarietà. Questo progetto nasce da una mia idea, perché mi sento coinvolta personalmente. Conosco bene l'operato del soccorso alpino, soprattutto quello della zona. Per cui sapevo che loro avevano bisogno di un mezzo di soccorso nuovo, perché ne hanno uno molto datato. Andrea Buccella e anche altre persone hanno raccolto la mia sfida e abbiamo creato un gruppo spontaneo che si chiamano Gli Angeli di Rigopiano. E' stato creato un conto dedicato a questo progetto e tra l'altro abbiamo creato un gruppo chiuso, usando chiaramente Facebook, che è la maniera più veloce per essere tutti contattati, per dare trasparenza a questo progetto. Per me Rigopiano è stato sempre un posto dove passare sia l'estate ma anche l'inverno con mia moglie e col bambino, quindi perdere Rigopiano è stata una fitta al cuore importantissima. Con il fatto che Francesca si è messa davanti e ho pensato di coinvolgere le aziende con cui collaboro, diciamo che siamo arrivati a una bella somma che speriamo ci possa consentire di fare subito l'acquisto del mezzo. Tutta la valle si è trovata unita in questo grande dolore, evento drammatico, quindi noi come club alpino italiano la sezione di Loreto Penne e Farindola ha pensato di partecipare a questa raccolta fondi. Avere un mezzo idoneo, moderno, che si può utilizzare per queste evenienze negative, comunque il suo corso alpino ha dimostrato che non interviene solo per gli alpinisti, ma in questo caso è intervenuto di notte durante una tempesta bruttissima ed è riuscito a portare i primi soccorsi a chi era sopravvissuto alla tragedia. Quindi noi siamo presenti per aiutarli a raggiungere questo bellissimo obiettivo. Sì, grazie ad associazioni, grazie a privati, grazie agli amministratori di tutti i comuni dell'area Vestina si sta cercando di portare avanti questo progetto per una raccolta fondi proprio finalizzato all'acquisto di un mezzo per la nostra associazione per il soccorso alpino che in questo momento è pure in difficoltà economica come molte associazioni del territorio. Quindi cerchiamo di mantenere la massima visibilità per avere qualche aiuto.